condividiamo oggi insieme qualche riflessione sulla signoria di cristo la nostra promessa inizia così signore gesù cristo mettendo subito al centro che gesù è il signore e mettendo in risalto la sua signoria gesù è il signore e la sintesi di tutto il vangelo e la chiesa primitiva riassumeva con questa espressione tutto il significato dell'opera di cristo gesù è il signore racchiude tutto il kerigma gesù è morto gesù il crocifisso morto e risorto gesù il risorto da morte e il signore questi sono i tre passaggi proclamati da pietro nel giorno di pentecoste che leggiamo in atti 2 36 quel gesù che voi avete crocifisso dio lo ha costituito signore e messia per questa confessione gesù è il signore che aveva come conseguenza l'affermazione che non potevano esserci altri re e altri signori i primi cristiani furono trascinati davanti alle autorità politiche religiose del tempo e affrontarono persecuzioni e martirio ma per ognuno di noi c'è stato un momento e sicuramente ne ricordiamo il giorno e l'ora in cui non solo abbiamo riconosciuto che gesù è il signore dell'universo della storia di tutti gli uomini ma nel quale abbiamo proclamato gesù è il mio signore è stato il momento del nostro incontro personale con gesù non più un personaggio storico ma una persona viva reale vicina sempre presente un amico intimo con cui è sempre possibile parlare è stato il momento in cui gli abbiamo detto accetto che tu sei morto per i miei peccati che sei risorto per la mia giustificazione e ti accetto come il signore della mia vita cosa c'era dentro quella scelta c'era la consapevolezza badate bene badiamo bene data solo dallo spirito santo di un'appartenenza reciproca io gli appartengo e lui mi appartiene e la decisione di lasciare a lui il controllo le famose redini della nostra vita dopo aver deposto ogni forma di ribellione e di indipendenza da lui che sono il retaggio del peccato originale c'era la decisione di riconoscergli ogni diritto su di noi e di sottomettergli tutto perché lui esercitasse la sua signoria su tutta la nostra persona il nostro corpo la nostra psiche il nostro spirito e su tutte le dimensioni della nostra vita gli affetti i comportamenti le relazioni lo studio il lavoro la famiglia niente e nessuno fuori di lui ma tutto vissuto in lui con lui e per lui per realizzare la sua volontà e il suo progetto d'amore in tutti quei luoghi e contesti dove ci aveva messo in un minuto facciamo memoria di quell'incontro d'amore e ringraziamo lo spirito santo che ci ha portato ad incontrare gesù quanta storia e quanto tempo è passato da quell'incontro per me ben 46 anni avevo 16 anni quando ho fatto il mio incontro con il signore quanti avvenimenti sono passati quante scelte quante esperienze gioiose e non mi chiedo la mia vita è sempre stata sotto la signoria di gesù è stata fedele allo slancio del cuore e alle mie prime promesse fatte in quel primo incontro purtroppo no tante volte ho ripreso in mano la mia vita riprendendo io il controllo di tanti aspetti di me e tante volte ho fatto scelte senza interpellarlo sottraendomi così alla sua signoria ma togliersi dalla signoria di cristo significa cadere inevitabilmente nella sottomissione ad altre signorie ad altri padroni magari il mio io e il mio orgoglio la mia vanagloria forse un'altra persona forse una dipendenza da un comportamento forse un'ideologia sant'ambrogio scriveva a proposito quanti padroni finisce con l'avere chi rifugge dall'unico signore Gesù mi dice e ci dice se vuoi desidero essere il signore della tua vita se vuoi perché l'amore presuppone libertà a proposito se non ricordo male Diana ci diceva che il rapporto con il signore è come una partita di ping pong noi gli lanciamo la pallina gli doniamo la nostra libertà ma lui ce la rilancia indietro perché possiamo sempre scegliere liberamente di amarlo e di seguirlo dopo tutti questi anni ho capito e certo sono un po dura di comprendonio che non mi basta avergli detto sì la prima volta ma che accettare che Gesù sia il signore della mia vita è una scelta da rinnovare ogni giorno papa francesco 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 ma tra vivere per il Signore e il vivere per se stessi. Vivere per se stessi è il nuovo nome della morte. Che ripercussione hanno queste riflessioni che sembrano riguardare solo ognuno di noi e le scelte individuali sul cammino di comunità? Siamo partiti dalla prima fase della promessa e la promessa riguarda la comunità. Ora leggiamo un attimo dalla lettera ai filippesi capitolo 2 dal versetto 9 al versetto 11. Sembrerà che torniamo un po' indietro ma non è così. Per questo Dio lo esaltò e gli donò il nome che è al di sopra di ogni altro nome perché nel nome di Gesù ogni ginocchio si pieghi nei cieli sulla terra e sottoterra e ogni lingua proclami Gesù Cristo è il Signore a gloria di Dio Padre. Quante volte abbiamo letto, proclamato e cantato questa parola ma andiamo a leggere i versetti che precedono e precisamente i versetti dal 2 all'8. San Paolo dice «Rendete piena la mia gioia con un medesimo sentire e con la stessa carità, rimanendo unanimi e concordi. Non fate nulla per rivalità o vanagloria ma ciascuno di voi, con tutta umiltà, consideri gli altri superiori a se stesso. Ciascuno non cerchi l'interesse proprio ma anche quello degli altri. Abbiate in voi gli stessi sentimenti di Cristo Gesù». Egli, pur essendo nella condizione di Dio, non ritenne un privilegio l'essere come Dio, ma svuotò se stesso, assumendo una condizione di servo, diventando simile agli uomini. Dall'aspetto riconosciuto come uomo, umiliò se stesso, facendosi obbediente fino alla morte e a una morte di croce. Per questo Dio lo esaltò e gli donò il nome al di sopra di ogni altro nome. Prima di essere innalzato dal Padre, la scelta di Gesù è stata quella di di svuotare, di spogliare se stesso, di farsi servo. San Paolo rivolge ai filippesi un appello all'unità. Paolo sarà pieno di gioia solo quando saprà che nella comunità di Filippi ci sarà un medesimo pensare, un medesimo amore, un'anima sola. Questo non vuol dire un pensiero unico che esclude le differenze. Paolo intende che per realizzare l'unità è importante non affermare se stesso a scapito degli altri e per farlo occorre almeno un po' e almeno ogni tanto svuotare se stessi ad imitazione di Cristo che l'ha fatto totalmente per noi. Svuotare se stessi è la condizione necessaria per l'unità. Diceva il filosofo Martin Buber, l'uomo diventa io solo a contatto con un tu. Ma come facciamo ad entrare in contatto con il tu del fratello e della sorella se siamo sempre preoccupati di difendere il nostro io? Se ogni tanto non abbiamo l'umiltà di svuotarci, di abbassarci, di arretrare da noi stessi per provare a vedere la realtà da un altro punto di vista, magari con gli occhi del mio fratello. Se confessiamo la Signoria di Gesù, la nostra identità più profonda, sia individualmente, sia individuale che comunitaria, non può che essere plasmata, non può che essere sul modello della scelta di Gesù di abbassarsi, di svuotarsi, di farsi servo. Solo svuotandoci da noi stessi potremo riconoscere l'altro come fratello. Solo con questo nostro servo e Signore potremo trovare la nostra vera identità e la nostra unità. Tenendo conto che in comunità ogni nostra relazione è triangolare. Alla base ci sono io e ci sono i tanti tu dei miei fratelli e delle mie sorelle, ma al vertice più alto c'è il nostro Signore Gesù Cristo. Amen.